Oggi ho preparato una ganache da pasticceria per farcisura di macaron con cioccolato 72% origine venezuela. Il segreto per una ganache perfetta è sicuramente creare una ganache che sia tecnica e che risponda alle esigenze del pasticcere. Quindi una ganache che sia emulsionata perfettamente con ingredienti di qualità e sicuramente un prodotto che in fase di dressaggio non granisca. Quando scelgo un cioccolato per quello che devo fare guardo innanzitutto quelle che sono le caratteristiche tecniche e le caratteristiche organolettiche. Per quanto riguarda il gusto sicuramente è qualcosa che riesca ad esprimere perfettamente le componenti aromatiche e gustative. Per quanto riguarda invece la tecnica un prodotto con il giusto grado di raffinazione, con la quantità di burro di cacao che riserva e sicuramente con la parte di fibra di cacao che va a completare il tutto.